E ci spostiamo ad Alcamo. Dopo le polemiche legate al parcheggio sotterraneo di piazza Bagolino, risponde l'assessore Butera affermando che sarà riaperto a breve. Il parcheggio è interrato, ancora chiuso. Si parlava di fine settembre. Cosa è successo? Purtroppo sì, devo ammettere che è ancora chiuso. Con grande rammarico ancora non siamo riusciti ad aprirlo, anche se siamo sulla buona strada. Gli adempimenti che ci hanno impedito fino adesso di riaprirlo ormai sono tutti in dirittura d'arrivo. Il DVR per esempio è già completo, la formazione dei lavoratori inizierà questa settimana e per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, l'impianto elettrico, anche queste inizieranno questa settimana. È stata trovata la ditta che si occuperà dell'automizzazione? La ditta che si occupa dell'automazione è indipendente dai problemi che hanno in questo momento impedito l'apertura. Il bando che parlava dell'automazione del parcheggio è stato un bando a cui si è presentata una sola ditta che poi dopo qualche giorno, se non ricordo male, ha rinunciato all'incarico. Ma essendo l'unica il bando va rifatto per quanto concerne l'automazione. Nel frattempo però si è innestata tutta la questione che riguarda i parcheggi a pagamento. Siccome il parcheggio interrato sarà pure una delle aree che verrà esternalizzata, quindi probabilmente all'interno del capitolato potremo mettere che questi lavori di automazione vengano fatti direttamente dalla ditta che si appalterà il servizio di parcheggio a pagamento. Allora una data approssimativa? Prossima settimana, fine alla prossima settimana penso che dovremmo essere realmente in condizione di aprire. Infine il delimitatore ancora non è stato messo? Presidente, è stata però individuata la persona che insomma inavvertitamente ha causato questa problematica e quindi ora credo che si sta vedendo se il rifacimento è a carico dell'assicurazione oppure a carico realmente della persona che ha combinato il danno. Io su questo posso dare degli aggiornamenti. C'è anche da dire che da quando abbiamo messo Piazza Bacolino a doppio senso la necessità di entrare nel parcheggio tramite quella che era l'entrata principale e che adesso è stata chiusa viene un po' meno. E quindi forse questa area potrebbe essere anche utilizzata per avere un maggior numero di parcheggi, qualche parcheggio in più per l'esattezza, è una valutazione anche che stiamo facendo in questo senso. E quindi i commercianti che si lamentano la mancanza di posteggi visto che il posteggio interrato è chiuso? Sul parcheggio interrato, dobbiamo ripetere, facciamo i mea culpa perché comunque è responsabilità nostra. Poi potremmo parlare del perché, però innanzitutto è nostra responsabilità non essere riusciti ad aprirlo come era nelle regole del buonsenso. Io ritengo che i commercianti possano essere anche, sicuramente lo saranno contenti nel misura in cui riapriremo il parcheggio velocemente.